buongiorno o buonasera non so se tu stai ascoltando questo podcast di giorno e di sera quindi io li dico entrambi però potremmo fare come fanno i francesi che dicono bonjour a qualunque ora della giornata e così risolvono il problema tra l'altro torna comodo perché oggi parliamo di un film ambientato in francia non un film francese ne parliamo perché pochi giorni fa con julia l'ho rivisto e mi sono reso conto di che ruolo fondamentale avesse il giardino anzi più giardini il film è a good year di ridley scott un film che non è stato molto amato dalla critica perché un po cliché ma proprio sul concetto di cliché e di giardino in quel contesto andiamo a discutere perché secondo me è molto interessante io sono francesco cecchetti e questo è giardino rivelato il primo podcast dedicato all'arte dei giardini tutto quello che si muove dentro e fuori dai confini di questo giardino che sia animale o vegetale a good year un'ottima annata film del 2006 protagonisti russell crowe e marion cotillard poi c'è albert finney c'è freddy highmore c'è tom hollander didier bourdon e avevo dimenticato che ci fosse anche valeria bruni tedeschi nel ruolo di notario faccio una breve sintesi visto che sono passati ormai 14 anni quindi sia che tu l'abbia visto sia che tu non l'abbia visto penso che non ci siano problemi se sai di cosa parla altrimenti stoppa non voglio turbarti troppo max questo ragazzino ha uno zio di nome henry che vive nel sud della francia questo castello che si è amasciato la siroc dove fa un vino buonissimo insieme al suo vignaiolo francis du flot che vive lì insieme a sua moglie lui di vin questo bambino passa dell'estate insieme a suo zio che lo educa gli insegna come si fa il vino che cosa c'è di bello nella vita come si comporta un uomo come godere della vita nel modo migliore gli dà delle lezioni che hanno un chiedi fantastico di fiabesco poi invece c'è un taglio di scena fortissimo e si vede che max è cresciuto è diventato non più freddy highmore ma russell crowe vive nella city a londra ed è uno squalo della finanza fa cose cattive alla gente ruba i soldi dopo essersi messo d'accordo con gli altri insomma un bel infamone che pensa solo i soldi lo zio muore e deve tornare lì per organizzare la vendita di questo dominio allora si mette d'accordo con il suo amico notaio tom holander charlie e deve andare lì per due tre giorni sistemare le cose e vendere ovviamente non andrà così lui rimarrà lì si innamorerà di marion cotillat che è fanny e così via questo è il all'interno di questa di questo così via si svolge tutto il film quindi la critica non ha amato questo film perché insomma molto prevedibile certo è ovvio che il cattivone del della city poi diventerà un appassionato viveo notevole inoltre il fatto che nel film ricorre la canzone l'olita di alizé quella che fa sepa ma fotte beh ora fatto questo recap che poteva essere un po più corto andiamo a parlare del posto chatola si rock esiste si chiama chatola canogue e si trova nel comune di bonnie poche decine di chilometri a nord di marsiglia e tra l'altro ne parleremo qualche altra volta perché non so non so ancora se farci un video di quelli che facciamo su youtube i video tour con google earth oppure un altro episodio del podcast perché c'è un altro giardino molto molto bello e interessante che si chiama la louvre giardino di cui mi ero dimenticato ma che poi quando lo vedo mi colpisce sempre quindi ne riparleremo grazie a riddle scott bene il film il giardino è fondamentale nel senso che inizia e finisce in giardino e ci sono delle scene fondamentali in questo giardino nel giardino max viene educato da suo zio henry nel giardino conosce fanny anzi non solo in giardino in piscina da bambini si conoscono in piscina e da grandi si ritrovano in piscina piscina che tra l'altro nella realtà è meno profonda che nel film quindi hanno dovuto costruire un doppione hanno dovuto girare più scene vabbè ora in questo tipo di dimore questa è mia opinione personale data da studio ed esperienza faticosissima sui libri nelle passeggiate ma anche dal buon senso nel senso che quando noi ci troviamo di fronte a un maniero spesso abbiamo di fronte a noi un giardino più o meno curato spesso formale che ha qualche anno ormai e di solito è bello è suggestivo si lega bene con l'atmosfera del posto se vai alla canog vedi le foto sul loro sito ti rendi conto che c'è la casa il castello il palazzo su un terrazzamento e poi sotto c'è il giardino formale poi c'è confinante la vigna in questo giardino ci sono palle di bosso enormi ci sono il prato e degli aceri credo non ho visto bene dalla foto e poi ci sono delle fontane insomma tutti gli stilemi i cliché se vogliamo del giardino formale di un palazzo nobiliare allo stesso modo nel retro che secondo me è più interessante c'è il giardino formale e la piscina piscina che si sposa bene devo dire perché anche lì ha un che di classico dei colori chiari nel film vediamo che c'è un percorso delle siepi squadrate intopiaria potate in forma di cerchio dove ci sono anche dei tavolini e poi si arriva alla piscina e sembra molto stretto lo spazio ma per un gioco prospettico invece guardando dall'alto ci rendiamo conto che ci sono svariati metri tra la piscina e la casa quindi quello lo trovo un tocco interessante il giocare con la prospettiva per rendere più vicina o più lontana questa piscina che da alcune parti è nascosta invece da altre sembra molto attaccata alla casa però comunque in una sorta di giungla festosa e formale elegante ora quella cosa che io ho scoperto che non ho scoperto ma che è data e che è ovvia nel senso di palazzi della piccola nobiltà di palazzi eleganti di palazzi ricchi ce ne sono a bizzeffe e sono tutti belli se vogliamo ma non sono tutti dei capolavori non possono essere tutti dei capolavori e magari questi palazzi all'interno hanno dei capolavori ma non sono tutti capolavori quello che li rende belli quello che li rende dei capolavori è la loro storia personale possono essere anche banali anche essere dei palazzi di epoca barocca però fatti con lo stampino rispetto a un altro quello che li rende interessanti è il modo in cui stanno nel loro territorio e il modo in cui le persone sono state al loro interno è la storia che trasuda da quelle pareti e lo stesso vale per il giardino dalle foto di lo chatula canog vediamo che ci sono dei bossi potati male un po' frastagliati quasi come se fossero dei cipressi abbandonati nella campagna però insomma si mette il bosso e quindi mettiamo il bosso come dire un qualcosa di tradizionale che si perpetua che si tramanda perché ogni chateau ogni palazzo ogni tipologia di casa ha un proprio linguaggio e può decidere se rispettarlo oppure no c'è un altro giardino che è interessante nel film che è il giardino del signor signor duflot è un giardino kitsch organizzano una cena in questo posto ci sono le lampade a forma di cigni di papere di cervi pieno di luci il signor duflot che di solito è vestito con abiti sfatti un cappellino stinto quando fa il vino a casa sua è vestito con questa camicia che è quasi da cowboy molto evidente lui e sua moglie sono due persone piuttosto kitsch nella vita privata che quando lavorano lei tiene sulle spalle il castello lo mantiene lei e lui la vigna lui fa questo vino speciale le coin perdu il vino più buono della regione loro quando lavorano non hanno pretese loro sanno solo di fare bene quello che fanno invece a casa loro vogliono dimostrare e questa se vogliamo potrebbe essere una cosa negativa una cosa positiva cioè potrebbe essere vista sia come un a vedi ha fatto vedere i contadini e quindi sono dei cafoni che non ci hanno gusto oppure no potrebbe essere l'esatto opposto cioè non ha voluto generalizzare far vedere che chi si occupa di quelle cose al di fuori del tempo che non ha interessi se non in quello che fa tipo il contadino depositario della sapienza della tradizione dei modi di fare di sempre sì ok però gli piace pure avere la casa piena di luci e di cigni illuminati non identificare quella persona con quell'unica cosa che fa a casa sua lui è una sorta di re delle luci a forma di cigno e lo stesso vale per sua moglie è molto vistosa e allo stesso tempo molto pulita come persona senza senza freni ma senza malizia il giardino in questo film un'ottima annata diventa un luogo in cui dei fantasmi si ripropongono henry fanny quando è bambina max stesso quando è bambino nascondersi dialoghi che superano il tempo che passano dal passato e arrivano al presente e hanno un'influenza su questo presente e cambiano anche il futuro è interessante perché se anche non ti piace come film è un interessantissimo modo di trasporre su pellicola quello che viene detto dei giardini in genere cioè che sono dei posti in cui le persone ritrovano se stesse ritrovano dei modi di essere mi fa pensare un'installazione di un paio di anni fa di un giardino temporaneo che avevo realizzato che si chiamava il giardino del ritorno in cui le persone potevano fare un percorso e poi alla fine disegnare dipingere fare delle composizioni con dei vasi per ritrovare per ritornare a quello che erano da piccoli e c'era questa signora inglese che fece un disegno di un giardino di peonia che disse disse se n'era dimenticata e lì se l'era ricordato e si commosse anche fu molto bello e secondo me si lega anche con questa visione che dà Ridley Scott nel suo film è un film che sicuramente non ti dà brividi non ti da risultati inattesi però allora forse lo potremmo vedere piuttosto come un atto descrittivo di un rito c'è uno spazio e all'interno di questo spazio muovendoti puoi risvegliare delle cose che ti appartenevano ed è per questo che il giardino nella storia ha sempre avuto un valore esoterico se vogliamo di conoscenza della persona quasi magico anzi proprio magico io non so se fosse nell'intenzione dei realizzatori di ottenere questo risultato non so nemmeno se fosse nell'idea dell'autore del romanzo da cui questo libro è tratto so però di aver trovato questi elementi che sono per me interessanti e che da paesaggista mi piace studiare con l'idea di poterle trasferire nel progetto di qualcuno che ci vive in questo posto perché la cosa più importante di un giardino di un parco ancora più del disegno in pianta che vediamo sulla mappa è quello che una persona vede è quello che una persona sente e mi piacerebbe sapere cosa ne pensi mi piacerebbe sapere intanto se questo film l'hai visto oppure no cosa ne pensi come film e se credi che questa considerazione che ho fatto con te sia sensata magari sei una persona appassionatissima di di film e mi strappi i capelli quando mi vedi perché dici no è un film che fa schifo oppure no invece è bellissimo non lo so vorrei conoscere il tuo pensiero ti invito a iscriverti a questo podcast se non l'hai fatto se ti piace ovviamente così che ti arrivi una notifica ogni volta che esce un episodio ma ancora di più se vuoi se hai telegram per esempio su telegram punto me slash giardino rivelato ci stiamo radunando pian piano e lì vengono raccolte un po tutte le cose che escono su tutti i canali che voce acuta che ho fatto su tutti i canali da youtube a spotify a spreaker ma anche cose più estemporanee un po meno formali se vuoi avere una panoramica invece generale vai su giardino rivelato punto it e li trovi tutto detto questo noi ci salutiamo e ti ringrazio tantissimo di questo tempo che che mi mi ha dedicato di aver chiacchierato con la scusa dei giardini grazie a tutti grazie a tutti